Ciao a tutti voi da Rossi, ancora un appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e come vedi Loris sono tornata, visto che l'altra volta ti ho mandato mio figlio, eccomi qui. Noi siamo in Sagam, vi ricordo gli indirizzi, noi ci troviamo nella sede di Viale Fulvio Testi al numero 260, ma altre sedi sempre a Milano, le troverete in Viale Liguria al numero 28 e in Via Sacco 5 Barra, angolo Piazza De Angeli. A questo punto naturalmente un saluto e la parola a Loris Tamisari. Buonasera a tutti, sono molto lieto di presentarvi una vasta opportunità di vetture che ho selezionato per voi col programma Audi Prima Scelta Plus. Il programma Audi Prima Scelta Plus è considerata che vi dà l'opportunità di avere una vettura alla stessa stregua delle vetture nuove, in quanto con questo programma tutte le vetture subiscono una check di 110 controlli preventivi prima della consegna della vettura, sono vetture che hanno un'anzianità che va da 0 a 5 anni fino a 150.000 km. Su queste vetture noi siamo in grado di fornirgli una garanzia che va al di là addirittura di quelle della casa madre, ovvero 48 mesi o risk chilometraggio illimitato. Oltre all'opportunità di acquistarle con vantaggiosissimi finanziamenti, con tassi agevolati e includendo anche diversissimi servizi, tra quali l'assicurazione, la garanzia sul credito, insomma tantissime opportunità per voi e iniziamo con le nostre vetture. Partiamo con una versione sportiva della Uno, questa stupenda S1 di colore blu Sepang, la vettura immatricolata aprile 2017, ha percorso solamente 11.900 km. La vettura è un full optional con navigatore satellitare, cerchi da 18, fari Bixeno. La richiesta di questa vettura è pari a 31.900 euro con IVA deducibile. Rimaniamo sempre nelle supercar, in questo caso nelle quelle sportivissime, questa è bellissima, è proprio una macchina stupenda da venire a vedere e toccare con mano. È un S3 Sportback 310 CV, la vettura è di colore rosso con tetto panoramico. Il cerchi lega da 18, il virtual cockpit, impianto Bengelovsen, Christ Control adattivo, la vettura è del 2017, ha percorso 11.500 km, un'auto aziendale. La richiesta per questa vettura è di 50.900 euro con IVA deducibile. Ecco un'altra fantastica S3 Sportback. La vettura in questo caso è colore blu, è un 2017, ha percorso 12.000 km, trazione 4, cambio S-tronic, virtual cockpit, la vettura ha cerchi da 18, la proponiamo a 49.700 euro con IVA deducibile. Ricordo che molte altre Audi le potete visionare sul nostro sito internet che è www.sagan.it dove abbiamo ben altre vetture, sempre col programma Audi Prima Scelta Plus, che ricordo dà l'opportunità di avere 48 mesi di garanzia all-risk con chilometraggio limitato. Andiamo avanti con i bombardoni, in questo caso si parla di un RS6 Performance di colore grigio opaco, immatricolato maggio 2017 con 31.000 km. L'auto è dotata di particolari Audi esclusi, freni carboceramici, impianto a audio Bose, fari a LED, tetto apribile panoramico. La proposta di questa vettura è pari a 109.000 euro con IVA deducibile. Continuiamo con le supercar, altra RS6 Performance, in questo caso è di colore lime green, colore Audi exclusive, la vettura interni fatti su misura Audi exclusive, freni carboceramici, impianto di scarico Akrapovic, impianto Audi Bengelovsen, fari Matrix, tetto apribile panoramico. L'auto è matricolata a maggio 2017, ha percorso 35.000 km, invito a venire a vedere perché è bellissima. La nostra richiesta per questa vettura è di 127.900 euro con IVA deducibile. Passiamo a questa bellissima A3 Sportback, 184 cavalli 4, in versione Sport con pacchetto S-Line. La vettura ha i cerchi da 19, impianto Audi Bengelovsen, fari a LED. L'auto è del 2017, ha solamente 8.600 km. La nostra proposta per quest'auto è di 42.900 euro con IVA deducibile. Continuiamo con questa A5 Sportback aziendale, la macchina del 2017 con solamente 11.200 km, con cambio automatico S-Tronic, trazione integrale 4. L'auto è full optional con pacchetto S-Line, cerchi da 19, fari a LED, virtual copy, crash control adattivo. Da un listino di 71.200 euro, la nostra richiesta per questa vettura è di 51.900 euro con IVA deducibile. Eccoci qua con un'altra invece chicca, in questo caso per chi vuole avere una macchina comunque dalle alte prestazioni e vuole avere un cabrio, vi presento questa TT Roster, la macchina è bellissima, è un 1.800 TFSI con cambio S-Tronic, auto immatricolata nel 2017 con solamente 15.900 km. La vettura ha i fari a LED, pacchetto S-Line, cerchi da 19, virtual copy con navigatore. La nostra proposta per quest'auto è di 35.900 euro con IVA deducibile. E per finire passiamo a un Audi Q5, quindi è una nostra vettura aziendale, un 2.000 turbodiesel 190 cavalli 4 in allestimento Sport. La vettura è immatricolata nel 2017 con solamente 10.700 km. La vettura ha i fari a LED, cerchi da 19, virtual copy, climatizzatore a 3 zone. La nostra richiesta per quest'auto aziendale è di 47.900 euro con IVA deducibile. Bene, sono contento di potervi presentare fra l'altro altre tantissime occasioni nel panorama Volkswagen e non. In questo caso sono vetture sempre con un'anzianità che va da 0 a 7 anni fino a 150.000 km, ma in questo caso non vi garantisco solo quello che è il marchio Volkswagen, ma posso garantirvi anche tutti gli altri brand del panorama automobilistico, dalla Mercedes, alla Hyundai, alla Kia, alla Ford, quindi vi sono vetture selezionate con pochi chilometri. Facente parte di questo programma da Asphalt Auto, che è un programma di Volkswagen Group per quanto riguarda il discorso delle garanzie, avete l'opportunità di acquistare vetture con finanziamenti a tassi agevolati e ora incominciamo a vedere le nostre auto. Iniziamo con questo nuovo arrivo, è una BMW 218 D Active Tourer, allestimento a vantaggio, è una vettura automatica, full optional, ha anche il navigatore satellitare. La vettura è una macchina immatricolata aprile 2017, ha percorso 32.700 km. La nostra proposta per questa bella vettura è di 20.900 euro. Ecco una vettura al momento molto ambita, in questo momento, ed ha una consegna, parlando di vetture nuove, che va all'incirca sui 180 giorni. Si tratta di una T-Rock, è un 2000 turbo diesel, quattro ruote motrici, in allestimento style. La vettura è un 2018, è un'auto aziendale, ha pochissimi chilometri, ha un colore bianco con tetto nero. L'offerta per questa auto, che è introvabile in pronta consegna in questo momento, è di 28.500 euro. Passiamo ora a questa Passat Variant, è un 1.6 turbodiesel a 120 cavalli con cambio automatico DSG. La vettura è un comfort line, immatricolata nel 2015, ha percorso pochissimi chilometri, ne ha percorsi solamente 74.000. La nostra proposta per quest'auto è di 22.500 euro. Ricordo che molte vetture, molte altre, le potete trovare sul nostro sito internet, che è www.sagam.it e fanno parte del programma da Svelta Auto. Continuiamo, andiamo avanti nella mia carellata con questa bellissima Charan, è una vettura a sette posti, è un'auto aziendale, è un colore blu scuro metallizzato. La vettura è stata immatricolata nel 2015, ha percorso esattamente 34.000 chilometri. La nostra proposta per questa vettura è di 26.900 euro. Eccoci con una bellissima classe B, molto molto bella devo dire questa vettura, è pari al nuovo direi. È un 180 CDI Euro 5, la vettura è in allestimento executive, è un'auto come dicevo come nuova anche negli interni, ha percorso solamente 43.000 chilometri. La vettura del 2014, la nostra proposta per quest'auto, che invito a venire a vedere e toccare con mano, è di 15.900 euro. Ricordo sempre quello che è il nostro indirizzo, che è Sagam di Viale Fuglio Testi 260, veniteci a trovare per vedere molte altre delle nostre vetture. Ora passiamo a questa Mini Countryman, è un 2000 Cooper SD, una vettura di colore bianco con tetto nero. L'auto è immatricolata nel 2015 e ha percorso 50-2.000 chilometri. La nostra proposta per questa vettura è di 20.800 euro. Questa invece è una piccolina, però è una vettura, è un Apollo, che è molto ambita come allestimento, perché è un Apollo Cross, fra l'altro non ce ne sono molte nel mercato. È molto ben accessoriata la vettura, è un 1.4 turbodiesel 90 cavalli, la vettura è immatricolata nel 2016 ed ha percorso solamente 22.000 chilometri. La nostra proposta per quest'auto è di 13.800 euro. Anche per questo invito a venirci a trovare o a contattarci, perché la vettura è veramente molto molto bella. Proseguiamo, proseguiamo con questa Golf Sportsman, è un 1.6 turbodiesel business, quindi una vettura con volante multifunzionale, sensore di parcheggio. È una macchina con cambio automatico, è un diesel, 115 cavalli. L'auto è del 2017, ha percorso 27.349 chilometri. La proposta per questa vettura è di 21.900 euro. Ricordo che molte altre vetture le potete visionare sul sito internet che è www.sagam.it dove trovate tutte le schede tecniche delle auto, un bellissimo servizio fotografico, quindi è come se entraste voi nella vettura. E per finire eccoci con una nostra Turan aziendale, è un 1.6 turbodiesel da 115 cavalli. La vettura è di colore argento metallizzato, è in allestimento comfort line con pacchetto business, quindi sensori di parcheggio, volante multifunzionale, radio touchscreen. La vettura è un 2017, ha percorso 23.952 chilometri. La proposta di questa vettura è pari a 23.500 euro con IVA deducibile. Bene, siamo arrivati al termine di questa trasmissione, avete visto delle occasioni davvero molto molto interessanti. Naturalmente per poterle andare a vedere personalmente vi invito ad andare nei punti vendita. In particolare quelle che abbiamo visto le trovate in Viale Fulvio Tess al numero 260. A te Loris. Certamente sì, vi aspettiamo numerosi. Ricordo anche di poter visionare molte altre vetture sul nostro sito Sagan che è www.sagam.it. Ciao! La vetrina dell'anglo!